a a per barbara l'uomo e ciao a tutti ragazzi siamo qua con non un minigame non una sega alla popolazione ragazzi siamo qua con i beer badbears uno di loro è andato a fare la doccia o andato in bagno a fare qualcos'altro non si sa infatti ci siamo io e dynamic e il nostro amico shugot e the badbears inizieremo questa serie insieme a loro su waka island che sono praticamente delle isole volanti o come volete chiamare e pronunciare sono island perché la mia professoressa inglese ogni volta che dico island dice no rector non si fa così comunque infatti non ho detto che stiamo accompagnati con due persone che è il suo riconoscere del bagnami che c'è stato nel video precedente c'è la mia bella mappa e lo so è andrea non c'è diciamo soffitto subito vediamo che no la voglia da città non è il campo no che fa il tipo era di due mesi becchio ecco è che hai becchio nazionale benvenuti al è un uomo a ma scompito non parlare sono la gente cazzo io ho tre possibilità uno bruciato 2 ma io ho antiru Welcome to Waka Island versione 0.9.5 Nel senso benvenuti a questa isoletta di Waka Versione 9.5 Per completare la macca dovete praticamente compiere tutte le azioni sulla lista Potete piazzare blocchi, far esplodere le cose Abbiamo capito quanto sei noioso Aspetta un attimo Ma tu non c'hai un plugin chiamato Command block, cazzo No, 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 il command block Di capitale, ce l'hai No, non ce l'ho Comunque facciamo così, iniziamo Dai, dai, mi chassetti che palle Aspetta, 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 aspetta Aspetta, aspetta 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 Arigasso, parati Ti serve Plugin, aspetta Il mondo lo manda al volo Guarda, vado in quanto riguarda Non serve il plugin Sì, c'è scritto, c'è scritto, c'è scritto, vado Vado in grado, vado in grado, c'è scritto Guarda Vado a inculare sul Che l'è? Qui c'è, command block, ah ah, se è modulo mando, ti dicelo No, non c'è scritto command block C'è scritto, guarda Ah, sì, sì Eh, quale sono i command blocks? Vado lo mando Vado lo mando Ma com'è che questo bambino era piccolo, era diventato grande, due secondi? Ma te mazzò da tutte le pecore per caso Io? Sì No no Sennò che mi pannavo subito qua Ma come è andato? No no se no non è che te mi pannavi Ok dopo questa breve interruzione siamo ritornati Ora iniziamo a fare le cazzate Ok Shugot decidiamo cosa fa Ok leggiamo Qui ci serve un letto Dobbiamo fare un letto Voi leggetti Secondo me è meglio allora uno va a scavare Uno praticamente fa una casettina per almeno decidere di mettersi un posto Uno scava Lo faccio io la casettina Sì infatti dobbiamo pensare a scavare Ah se vi faccio le ceste qua ci sta un esempio Qui ci sta... Che cazzo si ha preso una spada? Non abbiamo preso la spada perché ragazzi la mappa è per uno e noi siamo in quattro Comunque io prendo la legna Ah se io mi ricordo che qui ci deve essere una casa Ma perché io non posso rompere la roba? Oh la smetti non rompere da sotto Scemo Ma io non posso rompere Io non posso rompere la roba Come no? Ah forse perché non si rompere Ah grazie C'è un accesso su... su cose che non c'è un cazzo di dentro Ah ma è vero io ce l'ho io ce l'ho, dove sta noi c'è? Ah ragazzi a me le mie mi fanno la roba Oh cazzo stai cascato Ragazzi a me le mie mi fanno la roba Sveco Sto in me mi fanno la roba Veda dai dai mi ti faccio un attimo Ragazzi ma qui non ci dovrebbe essere altre... ci dovrebbe essere delle ceste C'e dovrebbe essere Ora.. provarvi a rompere ma come non ci dovrà essere delle ceste si dovrebbe vabbè stiassi cominciamo io ci ho cominciato per titolo no c'era una cesta lassù che praticamente non c'è un cazzo là dentro dove lì su? dell'albero c'era una volta c'era una volta un principe che si chiama dynamic c'era una volta dynamic c'era una volta dynamic e se principi è anche la città che abbiamo ragazzi e ci abbiamo l'albero lo pianto dove dove era ciò è un periodo secondo dalle ricordi ma sale per quel coglione la matta ok ho dubbio ragnarmi ma sono ragni ux c'è stata c'è stata con la posta stavano ala ma grazie la crafting table una cesta Ok, ecco ragazzi Oh no, se ci sono due si fa accoppiarli Vabbè non si può perché Ci servono le carote Oh ma dai quella cazzo di spada Che te la rovini la spada Cioè è inutile la spada con te Aiuto, una zombie Una zombie Aiuto Aiuto Ciuglo c'è una spada dentro la cesta Se viene a prenderlo Dai, mi dai quella spada a te te ne prendi questo Sì, no, dammi la spada a me Oh, dai, asciugato No, con la spada non te lo prendi, guarda No, guarda, tu no, tu no Oh, una alla volta, guarda che c'è pvp Sì, ah Ah, bravo, bravo, bravo Vabbè, prendetemi la roba Non è certo che dobbiamo prendere perché dobbiamo collaborare qua Dammi la spada a me, ce l'hai? Se ce l'ho io, vabbè, quale Vabbè, quale E legna ce l'hai, cazzo Sì, ce l'ho, non ho messo mettere tutta la legna cesta Amiga, ho messo il pvp, cazzo Oh, chi è che prende la cosa, ragazzi? La cosa che? Chi è che fa lo scavatorio personale, scavatorio Ma rega, ecco che bravo, cazzo legna La legna Io faccio la casa Eh, vedo fare la zappa Ma che la casa, non fare la casa ancora, è scemo Non abbiamo le risorse Ah, lo facciamo di certo No, guarda Oh, un piccone, chi me lo fa? Dynamik, ti stai ammazzando Oh, obiettivo compilato, è tempo di coltivare Ok, ragazzi Si state venendo qui Oh, chi è che sta tenendo il tempo? Io, io, ce l'ho io, in certamen, in certamen dal telefono C'abbiamo 8 minuti ancora Ma te ce l'ho, in posto papà Ma quanti mostri l'ho visitato, non lo so Oh, lo scheletro ci serve perché pell'albero Dove è? Si, quello che era ma Sto morendo, sto morendo, sto morendo Sto morendo Io poi stavo a fare Sto toffio le vostre sete 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 Mor Sopr 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 Bravo, brevissimo Dobbiamo piacere la casa subito, subito, di fretta Anche di merda e fango, dai subito Sopr 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 Simpatico No, ma non ci abbiamo le sogni No, guarda, scapiamo nella montagna, così c'è già una casa naturale, dai, bello, velo usci Chi scava Guarda, 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 non potete, non potete spaccare questi blocchi qua, eh Guarda, io mi ci affosto a merda, oh Dov'è lo scheletro? Ah, lo scheletro Io, no, io faccio il mercenario, vai dopo il suo posto che cazzo ti metti davanti e ma c'è rilassare roba obbocca abbandonato io c'ho io la trova metto nella cesta o tutta la roba per esempio lo mettete nella cesta e questa casa mia quindi levativi ma che è un'altra cosa per la cesta ho trovato ragazzi ci dobbiamo fare letto questo problema o l'albero l'albero fatto crescere un pubblico l'ho acquistato è vero buono buono costo raga raga un sacco di roba la fede è un esperto che sono spaventura non nel mio numero rector ammetti per la roba per guardare le facette per vedere con la cesta o ancora da me sta roba che mo faccio mandato faccio nasce di dici vai fallo te veloce fatta una porta che cazzo non solle cadere o qualcuno metta qualcosa qui davanti perchè qualcuno cade ma rega dobbiamo farci letti ecco che serviva come cazzo si faceva letti che mi sono scordato eh tre lana sopra e nel tre lana sopra e tre leni e due e tre leni sotto abbiamo uno o due di lana ma chi è che fa le ceste a caso vabbè questo cesto lo pigliamo eh la ceste sono già non è che lo facciamo a caso rega e spazio che sta qui che vedo di dai dai chi è che sta scavando ma come chi cazzo è questo affare no 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 lascia lascia per la sera per la sera lascia 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 per solo per una notte solo per una notte ragazzi guardate che so sono un figlietto la 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 sono un figlietto la 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 sono un figlietto la 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 anche se mi coppito rega per la notte facciamo questa come hai fatto quell'affare?